Buongiorno a tutti da CNC Markets, next generation, fra le altre piacevoli novità il client sentiment, ovvero il posizionamento dei clienti CNC Markets relativamente a un determinato strumento finanziario. Cosa fanno? Vanno long? Vanno short? Cosa fanno numericamente? E qual è il valore delle loro posizioni? Tutte queste informazioni sono possibili attraverso il client sentiment, è possibile quindi ottenerle attraverso questo strumento che andiamo a ottenere cliccando il flag che troviamo sulla sinistra dello strumento prescelto, Dopo finestra di ordine, grafico, finestra di prezzo singolo, generale, esce il client sentiment. Eccolo qui Allora, oggi cosa fanno tutti i clienti CNC Markets? Per il 69% sono short e c'è un incremento del 10% rispetto a ieri. Qual è il valore della posizione? Ovvero, numericamente noi possiamo avere 10 clienti che sono long, 2 clienti che sono short, ma questi due clienti hanno un numero di contratti decisamente superiore a quello dei 10 clienti. Ecco perché è importante anche il valore della posizione. Anche nell'ambito del valore della posizione il 72% sono short, ieri erano il 68% e infatti c'è stato un ulteriore incremento. Quindi abbiamo visto il comportamento dei clienti CNC Markets della totalità sia per quanto concerne il numero sia per quanto concerne il valore della posizione sull'indice tedesco. Ma non sono le uniche informazioni che possiamo ottenere dal client sentiment. Possiamo ottenere anche il posizionamento dei clienti top. Chi sono i clienti top? Sono quelli che negli ultimi tre mesi relativamente a questo strumento finanziario hanno ottenuto dei successi considerevoli. Quindi in questo caso il numero dei clienti top, vedete che la percentuale è invertita, 51% sono long e 49% short. Il valore delle posizioni 56% compra e il 44% vendi. E' possibile poi vedere, come abbiamo visto prima, tutti i clienti. Ecco, sono informazioni estremamente importanti perché sapere cosa fanno gli altri quando noi abbiamo un'idea di trading può essere un supporto davvero importante nell'ambito della nostra operatività. Client sentiment quindi è un'ulteriore novità offerta dalla Next Generation. Grazie a tutti per l'attenzione e buon trading con CNC Markets! Grazie a tutti!